Conferenza stampa in Sala Rosa da parte del gruppo consigliare del Partito Democratico. Ci sono critiche ben specifiche per quello che riguarda il PNRR. Voi avete presentato dei progetti, a quanto pare la Giunta Ghinelli su questo è abbastanza deficitaria. Allora, il PNRR esiste. Esiste, ci sono già dei bandi aperti che scadranno nel mese di febbraio per l'edificazione di nuove scuole e l'edificazione di nuove palestre. Oggi abbiamo proposto tre progetti di nuova edificazione su scuole innovative, perché questo è il motivo per il quale il Paese mette dei soldi per rinnovare il patrimonio edilizio pubblico e costruire e dare nuovi servizi. Allora, tre proposte. Uno è legato alla riqualificazione dell'area della manutenzione a Saione, per evitare una speculazione. E noi vorremmo che lì ci vengono fatte scuole e la prossima settimana faremo altre proposte per quella zona. Due, la, come dire, messa a nuovo, la ricostruzione, ritiriamo su la scuola Cesalpino, perché gli ultimi progetti proposti dall'amministrazione sono andati tutti a vuoto, perché non rispondono alle esigenze dei bandi di innovazione. Noi abbiamo fatto una proposta stamattina di, diciamo così, non solo riqualificazione, ma una nuova scuola a Cesalpino. La terza proposta è quella sulla zona tortaia. Anche qui la nuova scuola significa dare un servizio a una periferia urbana, che è una delle più importanti della città, e quindi tre nuove scuole per la città, in una città che non vede nuove scuole da ormai troppi anni. C'è un termine ultimo, che è il 28 febbraio. Ad oggi la giunta a Chinelli, quanti progetti ha presentato? Ad oggi l'unica notizia che abbiamo sul PNRR del Comune di Arezzo sono le dichiarazioni di Chinelli, che diceva che PNRR è come Sarchiapone. e dall'altra parte un comitato di tecnici e saggi per l'utilizzo dei fondi PNRR. Ecco, mentre si ritrovano, però ricordiamogli che ci sono delle scadenze, quindi a metà 8 febbraio, 28 febbraio sono le scadenze dei bandi, il PD ha deciso di non fare critica dopo che i bandi sono chiusi, ma provare a fare dei progetti per stimolare l'amministrazione a provare a sfruttare delle opportunità importanti.